Alcuni come Eugenio Scalfari pensano che se si cambia l'italicum la riforma costituzionale vada bene e dicono riforma costituzionale più italicum sarebbe un'offesa, un insulto, un'aggressione per la democrazia. Io non sono d'accordo, perché questo vuol dire che l'italicum è come una pallottola che rende pericolosa la pistola che è la riforma costituzionale. Non credo che una pistola scarica non sia pericolosa. Se si mette una pistola sul tavolo prima o poi qualcuno la userà. Non vogliamo pistole, vogliamo costituzioni che garantiscano i diritti di tutti.